ciao ragazzi io sono francesco saviano di 3d skill in questo video parleremo dello snapping questa utile funzione di blender che ci aiuterà a posizionare in maniera più precisa i nostri modelli 3d nella scena se ora proviamo a spostare con il tasto g il nostro oggetto vediamo che non si aggancia a nulla e si muove liberamente nello spazio questo vale anche per la rotazione e per la scala per abilitare la funzione di snapping dobbiamo andare qui nel ladder e cliccare su questa iconcina a forma di calamita possiamo abilitare lo snap in maniera più rapida con lo shortcut shift più tab una volta abilitato lo snap possiamo agganciare la nostra mesh a diversi tipi di elementi c'è l'incremento in base alla risoluzione della griglia vertici edge face volume edge center edge perpendicular iniziamo a vedere l'incremento con snap to increment se proviamo a spostare il nostro oggetto vedete che si aggancia alla griglia di un dato incremento e l'incremento cambia in base al livello di zoom e in relazione quindi in qualche modo alla risoluzione della griglia se abilitiamo lo snapping qui nel ladder l'aggancio avverrà in ogni momento mentre possiamo disabilitarlo e attivarlo solo quando ci occorre tenendo premuto control con incremento attivo l'incremento partirà dalla posizione dell'origine della mesh e come abbiamo detto l'incremento sarà relativo al livello di zoom in questo momento e con questo livello di zoom c'è un incremento di 10 centimetri l'aggancio avviene di un dato incremento indipendentemente dalla posizione della griglia che vediamo a video per agganciare l'origine della mesh alla griglia dobbiamo abilitare la funzione absolute grid snap vedete che ora il punto di origine della mesh il puntino giallo per intenderci si aggancia sempre alla griglia lo snapping vale anche per le operazioni di rotazione scala ma per attivarlo dobbiamo tener premuto control oppure per abilitare sempre lo snapping su rotazione scala dobbiamo selezionare le rispettive opzioni qui vediamo ora lo snap al vertice attiviamolo qui e in questo caso l'aggancio del nostro oggetto 3d avverrà al vertice vedete l'oggetto si aggancia al vertice del plane sottostante quando selezioniamo lo snap al vertice a un bordo a una faccia o a un volume vengono visualizzate le opzioni di target quando è attiva l'opzione di target closest lo snapping avverrà al vertice più vicino al punto di aggancio possiamo notarlo meglio inserendo un cubo nella scena diciamo che vogliamo agganciare il cubo al vertice in basso a sinistra del plane si aggancerà quindi il vertice del cubo meno distante da quel punto il puntino giallo abbiamo detto essere l'origine del nostro oggetto 3d con l'opzione target impostata su center e il pivò impostato su median point lo snapping avverrà proprio al centro dell'origine della nostra mesh con l'opzione target median attiva lo snapping avverrà al centro del punto mediano possiamo ad esempio considerare il punto mediano di questi due oggetti il gizmo che si trova proprio al centro dei due punti di origine delle mesh vediamo ora l'opzione target active lo snapping avverrà sull'oggetto attivo e un oggetto diventa attivo quando è l'ultimo ad essere selezionato lo notiamo dal contorno giallo mentre il contorno arancione indica un oggetto selezionato ma non attivo e come possiamo vedere l'aggancio avviene sull'origine dell'oggetto attivo le stesse considerazioni fatte per lo snapping al vertice valgono per i bordi e le facce solo che l'elemento di aggancio sarà il bordo o la faccia abbiamo anche la possibilità di fare lo snapping al volume di un oggetto con volume selezionato e l'opzione target center attiva lo snapping avverrà nel volume del cubo e l'aggancio avverrà a metà delle due facce del cubo se selezioniamo lo snapping alla faccia possiamo attivare la funzione align rotation to target che allineerà la rotazione all'oggetto target in questo caso il pianoforte quindi oggi abbiamo visto lo snapping con blender che ci permette di posizionare con più precisione i nostri oggetti 3d se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale grazie ragazzi alla prossima